Imprese aquilane e i professionisti aquilane avranno a disposizione uno sportello che si chiama Firo-Orienta e sarà uno sportello dove imprese professionisti potranno chiedere informazioni e anche avere orientamento per quelle che possono essere le tematiche degli strumenti finanziari, delle opportunità della regione Abruzzo, le opportunità che vengono dall'Italia e le opportunità che vengono dall'Europa. Opportunità molto varie come ha esposto anche prima, vari strumenti che vanno a girare tutto intorno il panorama delle imprese con un sito totalmente rinnovato peraltro. Allora noi in primis abbiamo rinnovato il portale internet, qualsiasi cittadino potrà accedere al nostro portale e avere informazioni, avere orientamento nel senso che all'interno del sito con varie funzioni si potrà fare ricerca e ricercare strumenti finanziari e opportunità che vengono dal mondo in senso lato, nel senso che andremo a caricare i bandi della regione Abruzzo, delle finanziarie regionali stesse e quelli di Infitalia e del Ministero. Siamo in piena sinergia con la regione Abruzzo, Fira è una società in house della regione Abruzzo e per questo abbiamo voluto dare grande forza a questa iniziativa. Fira sarà a piena disposizione di professionisti e imprese con un'opera di orientamento e il tutto, il posto migliore non poteva essere che l'emicicolo del Consiglio regionale.